Siano lodati Gesù e Maria. Gesù giunse con gli apostoli all'altra riva, nel paese dei Gadareni. I Gadareni erano una popolazione fortemente paganizzata. Vi erano ebrei, ma vi erano anche molti pagani. E prova di questa presenza e influenza pagana è data dalla presenza della mandria di porci, animali che nessun ebreo poteva allevare. Qui avvenne qualcosa di imprevisto. Due indemoniati gli andarono incontro e si misero a gridare, che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? Gesù liberò i due uomini che erano indemoniati e demoni chiesero di poter andare nella mandria di porci. Gesù glielo permise. Rimane un mistero il motivo per cui Gesù permise che i demoni andassero nella mandria di porci. A volte Dio permette una perdita materiale. In quel caso era la perdita di quella mandria, in vista di un bene più grande, il bene dell'anima. Anche se noi non riusciamo a comprendere la logica. Il Salmo 48 dice così, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Siamo di fronte al mistero delle permissioni divine. Dio non vuole il male, ma tante volte lo permette, perché sa trarre un bene maggiore anche dal male. Lo permette a nostra purificazione e per darci la possibilità di ottenere un merito più grande se noi riusciamo ad affrontare la prova con spirito di fede. E certamente se Dio permette il male ci darà anche la forza per portare quella croce dietro a Lui. Dio non permette mai che noi siamo schiacciati da una croce superiore alle nostre forze. Permettendo la croce Dio ci donerà anche la forza per portarla. Comunque questo episodio evangelico ci dimostra tutto l'odio che i demoni hanno nei confronti degli uomini. Se non riescono a nuocere direttamente gli uomini cercano di rovinare ciò che appartiene agli uomini e questo accade tante volte più di quanto possiamo immaginare. Tutto è nelle mani della divina provvidenza. Come abbiamo ascoltato nel brano evangelico i demoni andarono in quella mandria solo perché Gesù glielo permise e permise ciò sicuramente per un bene maggiore. Dobbiamo vivere di fede e dobbiamo essere convinti di una cosa. Se Dio permette un male è sempre per il bene dell'anima nostra. Ma noi comunque per essere protetti dobbiamo pregare. È quanto chiediamo nella preghiera del Padre nostro con le parole ma liberaci dal male. Se non preghiamo siamo esposti al pericolo. Se preghiamo molto allora saremo benedetti da Dio e tutto ciò che ci appartiene sarà benedetto. Oltre alla preghiera è importante ricevere le benedizioni del sacerdote e usare l'acqua santa. Sì l'acqua santa che a giorni d'oggi sta diventando una rarità. Santa Teresa d'Avila aveva sperimentato più volte la sua efficacia. L'acqua santa è potentissima contro tutte le tentazioni del maligno a nostra protezione e a protezione della nostra casa. La storia dell'indemoniato di Gerasa avvenuta in territorio fortemente paganizzato vuol farci comprendere che la forza del male è grande ma deve ritirarsi di fronte alla potenza salvifica di Gesù. Egli addirittura è capace di trasformare un indemoniato in un missionario. C'è però un particolare che deve farci molto riflettere. Gli abitanti di Gerasa dopo che Gesù scacciò i demoni pregarono il Signore di allontanarsi. Il testo del Vangelo dice tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Avevano subito una forte perdita materiale con la mandria di porce affogata nel mare e diedero prova di preferire il benessere materiale alla benedizione portata da Gesù e così allontanarono colui che avrebbe annunziato loro parole di vita eterna. Anche noi rischiamo a volte di agire come quei pagani ogni volta che preferiamo il nostro tornaconto a quello che Gesù chiede da noi. Anche noi allontaniamo il Signore della nostra vita ogni volta che preferiamo le opere delle tenebre alla luce della grazia divina. Certe volte anche noi ci troveremo di fronte a un bivio. Da una parte ci sarà il benessere materiale dall'altra quello spirituale. Ebbene in quelle circostanze non dovremo esitare a scegliere il bene dell'anima nostra sicuri che in questo modo otterremo la benedizione del Signore e sperimenteremo la generosità della sua provvidenza. Siano lodati Gesù e Maria.